Oggi nelle donne con carcinoma ovarico cronicizzare la malattia è un obiettivo possibile così come accade per altri tumori e si può utilizzare l'immunoterapia che ha letteralmente rivoluzionato il trattamento di altre neoplasie come melanoma, rene e polmone? L'abbiamo chiesto a una grande esperta di tumore dell'ovaio, la dottoressa Domenica Lorusso, che abbiamo incontrato a Torino alla 32esima riunione nazionale del gruppo Mito, un gruppo cooperativo italiano specializzato nella ricerca sulle neoplasie ginecologiche. Dottoressa Lorusso, oggi nelle donne che sviluppano un carcinoma ovarico, la guarigione è un obiettivo realisticamente raggiungibile o è più corretto parlare di possibilità di cronicizzare la malattia? Come sempre nei tumori ciò che fa la differenza sulla possibilità di guarigione è lo stadio in cui la malattia viene diagnosticata. Quello che paghiamo tanto nel tumore ovarico è il fatto che l'80% delle diagnosi vengano fatte quando una malattia è al terzo o al quarto stadio. In questi stadi l'obiettivo guarigione è un obiettivo molto difficile da raggiungere. Ciò nonostante la letteratura è molto chiara. Quello che noi abbiamo fatto negli ultimi anni è stato aumentare la sopravvivenza delle nostre pazienti. Le pazienti convivono con la malattia ma convivono molto a lungo. Oggi l'aspettativa di vita a cinque anni di una paziente che si ammala con un terzo e quarto stadio di malattia è circa il 50%. Questo obiettivo non è un obiettivo di serie B. È un obiettivo che lei giustamente ha chiamato cronicizzazione della malattia. Cioè creare un equilibrio tra la malattia e il corpo umano tale per cui la malattia non prenda il sopravvento. Questo è quello che noi vorremmo sempre più ottenere. Trasformare i tumori in una malattia cronica che si cura come si curano altre patologie croniche. All'ultimo congresso dell'ESMO a Monaco sono stati presentati i risultati dello studio Solo Uno, che è uno studio estremamente importante, nel quale si è utilizzato Olaparib come terapia di prima linea. Ecco, in questo studio si vede che le curvi di sopravvivenza non sono curvi a banana ma raggiungono un plateau. Quindi sembra che questo farmaco in qualche modo abbia cambiato la storia naturale della malattia. Assolutamente sì, assolutamente sì ed è probabilmente questa nuova classe di farmaci, i parpinibitori, sono quelli che più di tutti ci stanno dando una mano nell'obiettivo di cronicizzazione di malattia. Nello studio Solo Uno, pazienti con la mutazione BRCA1 e 2, che è una mutazione presente in circa il 20% delle pazienti con tumore ovarico, al termine della chemioterapia venivano randomizzate a ricevere questo parpinibitore Olaparib oppure il placebo. La cosa estremamente interessante è che a tre anni dall'inizio del trattamento, nel braccio placebo solo il 20% delle pazienti era ancora libero da recidiva contro un 50% delle pazienti che avevano ricevuto e che stavano ricevendo l'Aparib. Le stesse percentuali a quattro anni diventano 40% e 10%. Oggi trovare una paziente con un terzo stadio di malattia libera da recidiva a quattro anni ci fa sognare che all'interno di questo gruppo di pazienti ci possano davvero essere pazienti per le quali la parola guarigione non sia un azzardo. Ecco, quindi i parpinibitori, possiamo dire, che hanno rivoluzionato il trattamento del tumore ovarico. Almeno per un gruppo di pazienti assolutamente sì. Invece l'immunoterapia ha rivoluzionato il trattamento di tumori come il melanoma, per esempio, o il tumore al polmone. Ma quali sono le prospettive dell'immunoterapia nel tumore ovarico? Ecco, in questo momento l'immunoterapia nei tumori ovarici non ci sta dando le stesse evidenze che dà in altri tumori. Già i primi studi riportavano percentuali di risposta che oscillano tra il 9 e il 12%. Purtroppo, proprio recentemente, abbiamo avuto il fallimento di due studi importanti che utilizzavano l'immunoterapia nel trattamento di prima linea e nel trattamento della recidiva platino-resistente, cioè quando la malattia si ripresenta a meno di sei mesi dalla fine della chemioterapia di prima linea. Ed è stata, devo dire, per la comunità scientifica una grossa delusione perché anche noi speravamo tanto in questa nuova opportunità. Quello che sembra evidente in questo momento è che l'immunoterapia da sola non funzioni. Quello che dovremo capire meglio in futuro, io credo che la ricerca si svilupperà in due sensi. Provare a combinare l'immunoterapia con gli antiangiogenetici piuttosto che con i parpi inibitori e probabilmente, se provare a selezionare un po' meglio, le pazienti potenzialmente in grado di rispondere. E allora probabilmente le pazienti con la mutazione, con un'elevata instabilità genetica, possono rispondere oppure probabilmente dovremo proprio cambiare scenario. In questo momento mi viene in mente il carcinoma della cervice uterina che è legato a un'infezione da papillomavirus, l'infezione richiama cellule infiammatorie, allora lì forse l'immunoterapia può dare qualcosa di più.